Musica Musica Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Sei un professore. Non ho provato al 명ale di Dio. Non lo so con lui. Non lo so con lui. Non si non scrive Dio sui. Amen. E adesso c'è proprio la tua village. La loro storia, ma la loro storia. Non lo so con lui? Non lo so con lui? Comece prima cosa? No, lui. Comece prima cosa? No, lui! si che lo pretsi con la causa lo dice che aveva praticamente una cosa insomma è la cosa che c'è una cagnetta per cui non ci saranno non c'è un grande rito l'abbiamo, non c'è un grande rito non c'è un grande rito non c'è un grande rito non si fai comprare se vuoi adessi che la loro si sa attaccasse No, non c'è quello che faccio, non ci Совere. Se face nel mondo, non ci sono, nuffò di più, non ci sono venuti come ai nostri sposti, non c'è tutto che faccio non lo so, só vediamo a te posso perché ti siano così, ci sono le lai vorrei a fare a te, a te, e le le vorrei a te, riportate a te vers личo ad un giusto. Scusi, ora la tua è per il teu fai, Gesù è il giro, i werk, arrivati in alto per nuvolmente. Voi fare un buon giorno. Amen! Amen! Non aggiungo? Let me show you, cosa sarai a te? Anderle? Come hai detto? Cosa. Cosa? Cosa non data. Cosa? Cosa non è parte? Come c'è? Come se si senti qua? Come c'è? Come c'è? Can I prophesy? Yes. Come c'è? Ti tempi. Amen! Allora cuida una fuga anche a tegh prendere sul traffico Si mi somemerasci e toccervi? Question 2 Sì Sì Continuare Si mi e l'amore, objection è escenario Sì Welcome. Voi, non faccio. Controliere le persone, quando si vede a fronte, se senti invidimi a far la vista, e se vede a lui, a come ti avessere il suo lamina, non avessere il loro è necessario. Se non funzionerà il loro bordo, è una persona che ha gestionato in questo sogno. Non è vero di questo. Si vede a lui, se mia, forse per essere vera, se per lo sia nel vostro è nostromako, se volessere per farlo, se non l'hai avuta il volo lo 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 andai che ti lo andai? lo andai non, no! L'avante il professe del cielo Gesù non lo andai lo andai la tua vita io ci metto il terra lo andai le man, non le mani ci sono la mia madre non lo andai dimenticare questa domanda bello, no zoni, no non inizia non so si 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 Giacchia Birmanach Si tu questo Il nostro obvio Il loro nome fa Amin E'o non lo ha detto Nel loro che c'è E'o che il loro demano E'o che il loro Dio 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 E'o che il loro Dio E'o che il loro Dio Dio Amin Dio 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 Amin Dio 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 se chiede la questione dell'amore la questione è il avessore il avessore amenni sì, tu non gli arrivi e ti metti il messio, messi, messiatè Venti? Venti messiatè 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 Venti? Assosera 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 il che andava No, ma prima volta! Quando succede a te sei non joining, non. Voi? Voi non stagione? Non stagione! Ma cura diagò! Quindi sono rinforzi!! Se sei! Non! Inizia la sera non presente, non! Non? Getterei a me diventare una uova messa. Non? Ne avan spinneri non? amè guardi me i see proportion e alliu uttanta lo callum Su a mean jessus 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 che succo altro che succo altro serio ah 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 worka nessine exibili versi non si si or cuối amè Anche te? Altra cosa. Questo è quello che ha fatto. Si ha preso il testo di farola di ild semi, ma vai troppo la spawnare. E lui. Ma non è una cosa. Cosa cosa? Perché non ci ho fatto la persona? D'accordo. Perché si chiama la persona? E poi, sì. Si ha preso il tetapotente! Non ce ne vede. Quando ho messo, non so che perdono sempre. Non so che se devo fare quello che vuole. Si, dalle mille che vorrei o pestsigare. Ter'lura le postigare. Non ma mia. Non ma mia. Se cia una cosa indica, non mi ha bisogno di fare, non mi ha bisogno di fare. Mai, non mi ha bisogno di fare. C'è una cosa che mi ha bisogno di fare. Così cosa vuol dire? No. No. E' un problema. Come se come se vuol dire? E' un problema che mi ha mai detto. C'è un problema che non c'è un problema che mi ha dato. Continui. Ok! L'indici è un problema che mi ha detto. Sì. Come? 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 E' un problema. Si ha detto 被amo non servo ho vado ma carà ciao Ho visto! Ho visto! Non fanno bene! Ci sono un'immagio d'unore e di loro foe! Amén! Amén! Quellamore! Alla! Con Gesù Cristo. Amén! E allora? Amén Musso? Lo abbia Corso questo Gesù cksมา Che sopura non devono Dice e le canali se io come un'amore questo è il momento tra le persone qualora è l'amore avvenuto si allora l'amore allora aspettare l'amore i amici che molte il mondo non è meglio se che fa il bale? sì se nel passare la loro famiglia si sono qui qui? se la loro famiglia si è molto più grande si è meglio la loro famiglia? si è meglio la loro famiglia si è meglio la loro famiglia sì chi è Gesù? chi è la sua? Amen non lo so? quando ci sono un po' che dà un po' non lo so, ma non lo so non lo so E' un po' di questo. Come le persone che avevano a rispettare di questo. Per questo ciò che avevano una rispettura, a che ci ha detto che inizialmente non ha avuto il nostro. E' un po' di questo. E' un po' di questo. E' un po' di questo. E' un po' di questo e di questo. Ma cosa faccio? Issa! 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 Sost Arat Ammest Sabat Fiazzat Chiesa's name Chiesa 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 Amen, amen! Amen, amen! Amen, amen! 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 per versione del quattro ritrova ma il corso ti serve i abbiamo ma come ma man ante noi ora ho non osservato mentre non non Noi! Non ciò che racconti, ma cosa cosa stanno danni? Non ciò che stanno avendo, ma cosa stanno avendo la loro maniera? La mia maniera è una tante. Non si other, non si riempite, non si riempite. Non si riempite. Non si riempite. Non si riempite! Non si riempite. Non si riempite! Non si riempite! Non lo so, non lo so, che il segnereci e raccogliere, oppure le loro dimenticare, non lo so, cosa ne vede? Inoltre la mia bianca non lo so. No, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Ma vorrei anche per la sua parte. Cosa è chi lo so? si chiede a vita alla fine ma la prima volta che ci sono saluto la fine se non si non si si non 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 ma non a a l'an Velo aia l'onere! Vene o che amare, Ele è andato! Vene 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 e Iisus! Vene! Vene croce vado bene a chi fa tu, vene croce vado bene bene al lavoro, vene croce vado bene! Sarà un'amica di lettura, non sono un argomento, non sonore, non proietto in realtà. Amen! Allìlucia! ma che se che 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 sono Se non ci avessero, non parlare anche il mondo. Ci avessero? E' quello che fa risposta? E' quello che c'è? Non mi piace? E' quello che vuole dire. Che ci sono? se si sa lì, io non gli dimenticare. Ma che si sa lì, non gli dimenticare, non gli dimenticare. Come si sa lì? Si sa lì, non gli dimenticare. Se si lo sogliete, non gli dimenticare. Non gli dimenticare, non gli dimenticare. Non gli dimenticare. Il nostro manto è che lo sovrappone. mafetti ha detto in questo momento come dire la visione di Gesù a me 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 e che a me a me a me ma l'ha ma ma l'ha la l'ha 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 ma Signore 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 Tu non hai ancora Non hai ancora Ma tolgo il nome Non tu non hai mai Non è il fatto Non ti chiedi Non ti chiedi Non tu non hai mai Non è il fatto Ti chiedi Non si per questo e questo è stato un po' di più e questo è stato un po' di più sì chi ha detto? non so, non so non so, non so non so, non so non so non so non so non so non so non corro no non so non so non so non so non so non non Non. Ha fatto l'unico? L'unico ortodoxo. C'è ma l'unico? L'unico ortodoxo? usc'è? Si. Viene tutti? Io voglio dire che quello che davanti sono guardate. se si muove le persone che non sollevano se ne sollevano se non sollevano se non sollevano se ne sceglie Amen Dio e Gesù se non sollevano ma pensi ne sono se la spettura Se non sollevano ma pensi che i loro Ora e Suo Sciristoso Golfo di posto Adina moho no Adina moho no Ammene Assurati di spot Betanta le accidente Ammene Perché dice di Yesus Christus Die grazie a te colone Si te lo si volete O che tu vi, che dà te volete E tu ti ha detto En aglio Ammene Perché dice di Yesus Christus oć In questo esempio si prendi pelle Sì 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 Tutti Tutti No, no, no. non è come con i rag HII come gravi sulla ame vedea ame e io amico il suo nome di questo mi ha detto spesso è gratuito come se ha detto su una grafica salita si aspetta a questo chi ha detto a questo questo bisogna essere tutto ma tra loro il suo risultato per essere per essere il suo risultato Questo è quello che vuole, il suo nome è Gesù. Gesù. non si sè, non si può fare i soggetti. Non si può fare i soggetti. Non si può fare i soggetti, non si può fare i soggetti. Amin! Voi diria che amin è alatticato. Amin! Sì, non si può fare. Chi ha detto? Come si può fare? Assessore. Assessore. Si, come si può fare. Non si può fare i soggetti. Non si può fare i soggetti. Ma con una cosa che fa, non mi sia dalla fronte, non mi sia dalla fronte, ma il regime è sempre da servito. Non significa che lo faccio, chi è andato, le figlie non so fu, non so fu, non so fu, ma un vero è fede, che lo ha sostenuto, si è fede, non so fu, non so fu, non so fu, non so fu, non so fu. Non so fu, ma la chio è frazzarlo, non so fu? Amen! Amen! Non so, non so fu? E io ci sono? E io ci sono aminibali. E io ci sono aminibali. Amin! Cosa è la mia? Cosa? 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 Pumidi pelare,ele. Poi pagare. Ilさい in Signa? Ma che parlare nota alle? flapare. astronauts in qua? poi lo ha detto, fa schi appurare la porta a casa. See? Uh, Sì, sì, sì. E a quello che fa fa? Fai con questo. È una cosa stessa. Wow, adesso è un po' che dice. Ha questo? Che ha detto alla fine, se non vuole una vita, non a farne la vita, non a farne la vita. Non è la cosa? Non è il nostro. non è possibile ma il riso se non lo so se ti senti oltre se non lo so si è un altro non lo so se non lo so non lo so non lo so non lo so come dice ii E' come la sua vita di Gesù Cristo. La sua vita di Gesù Cristo, la sua vita di Gesù Cristo, la sua vita di Gesù Cristo. E' come la sua vita di Gesù Cristo. Ma cosa è che? Mi chiedo di farlo. Mi chiedeciare. Perchè di farlo. Perchè di farlo. No 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 A person No God Jesus A person Yes Yes Two come ti faccio? cosa faceva? ci hai visto? non mi scuola sempre non si sono male non mi sono male non mi sono male non ti sono male non mi sono male Foto? Questa è una foto? La mia vita? L' source è una foto, magari fa male. C'è colpe. Il nome mamma. C'è il nome? Non è vero Voi? Voi? E' vero Amen A la sua vita Amen E' vero Voi? Non è vero, l'Evora amè amè iessus cristo si barac amè